Un saluto dalla redazione di Roma Servizi. Per la mobilità proseguono i lavori di manutenzione dei binari tramviari su Viale Palmiro-Togliatti. Per lasciare spazio all'intervento è chiusa la corsia tramviare di Via Brenestina nel tratto tra Via Bresadola e Viale Togliatti. In questo stesso tratto i tram della linea 14 sono sostituiti da bus e restano le navette anche al posto dei tram del 3 nel tratto tra stazione Trastevere e Porta Maggiore. Per quel che riguarda la 19 invece per lavori nella galleria dei servizi di Via Brofferio nel quartiere della Vittoria il tram 19 continua a essere sostituito da bus tra Valle Giulia e Piazza Risorgimento.